Buongiorno, io sono Francesco Art e sono un professore ordinario di Fisica all'Università degli Studi dell'Insubria, in particolare al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia a Como. Sono un cosmologo nastrofisico, che vuol dire che nella mia attività di ricerca mi occupo dello studio di vari fenomeni celesti. In particolare, ad esempio, ho un'attività di ricerca sulle atmosfere degli esopianeti, sulla fisica del mezzo intergalattico e sulle sorgenti di onde gravitazionali. In particolare, insieme ad altri colleghi di diverse università e denti di ricerca italiani, abbiamo formato un team che si chiama AstroBlack, il cui scopo è studiare le sorgenti, cioè i buchi neri sorgenti di onde gravitazionali, all'interno di una missione spaziale europea che è stata approvata dall'ente spaziale europeo, di cui l'Italia fa parte, che si chiama l'ISA, Laser Interferometer Space Antenna. È una missione sovranazionale molto importante di cui noi, come Italia, facciamo parte. L'università è il luogo in cui si para a guardare oltre sull'orizzonte. L'università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi.